Tra gli addetti ai lavori c'è una giustificata attesa per misurare la temperatura all'interno dell'Aula Consiliare del Municipio di Oristano e questo in previsione della scadenza elettorale di maggio-giugno prossimi quando, alla fine della legislatura, si dovrà procedere alle elezioni del Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale. Poiché sarà l'Aula degli Evangelisti a Palazzo degli Scolopi, teatro dove si svolgerà parte della trama destinata a tessere le future alleanze o i viaggi e le scommesse in solitudine, in quanto non mancheranno gli irriducibili che da soli e senza apparentamenti imboccheranno la strada cercando di giungere al finale. È certo che da Cagliari si spingerà per trovare una soluzione e alleanze che rispecchino quella al governo della Regione che sostiene la giunta preseduta da Cristian Solinas, orientato a far trascorrere anche gennaio senza effettuare l'annunciato rimpasto nell'esecutivo. Ma ad Oristano non è improbabile una spartizione a quattro dello scenario elettorale, con il Sindaco uscente Andrea Luzza a guidare una cordata da definire, ma che avrebbe i suoi punti di forza in Fratelli d'Italia e Forza Italia, altra da non escludere una formazione con sardisti, riformatori e Forza Baris, decisi a far pagare pegno al Sindaco uscente, altra ancora uno schieramento di centro e civico, ed infine il Partito Democratico alla ricerca di alleanze che poi finiscono col non pagare. La Sardegna è ai primi posti in Italia per numeri di trapianti sia nel 2020 e ancor più nel 2021. Lo attesta l'ultimo rapporto del Centro Nazionale Trapianti dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel 2021 nell'isola sono stati eseguiti complessivamente 75 interventi con un incremento del 27% rispetto al 2020. Sempre nel 2021 azzerate le liste d'attesa per il trapianto di fegato, in aumento anche il numero dei donatori usati, ossia il numero dei donatori risultati poi idoni per il prelievo d'organo e che infine si sono concretizzati in almeno un trapianto. La Sardegna conferma la propria eccellenza nell'attività dei trapianti. L'aumento degli interventi su questo fronte, nonostante la pandemia, è un segnale fondamentale che ci deve rendere tutti orgogliosi, ha affermato il Presidente della Regione, Cristian Solinas. Continueremo a dare tutto il sostegno possibile all'attività dei trapianti e a impegnare risorse materiali ed economiche affinché il nostro sistema sanitario possa continuare a crescere per garantire a tutti i sardi un'attività indispensabile da cui può dipendere la vita di tante persone. I numeri dell'ultimo rapporto, ha aggiunto l'assessore regionale della sanità Mario Niedu, riflettono il grande lavoro a tutto campo dal nostro centro regionale, anche per la diffusione della cultura della donazione. La Sardegna cresce nella rete nazionale, ma anche nell'attività di rete interna della nostra regione, con l'impegno di tutti i presidi sul fronte delle segnalazioni, un'attività preziosa e indispensabile che determina la capacità del nostro sistema sanitario di intercettare le possibili nuove donazioni. C'è quasi pronta la pista per gli allenamenti o dove i cavalieri della Sartiglia provano la condizione dei cavalli e il loro assetto in previsione della giostra equestre. E mentre la scadenza si avvicina, al momento difficile stabilire se la morsa dei divieti verrà allentata, considerando che le prescrizioni del governo restano valide sino al 31 gennaio. Tutto dipende se da questi giorni e sino alla fine del mese l'ondata pandemica si attenua, al punto da indurre le autorità sanitarie e quelle politiche a introdurre correttivi sullo svolgimento di eventi e manifestazioni che richiamano pubblico. Ma sin d'ora si può ritenere che tutto questo deve restare un auspicio e non una certezza e di conseguenza trova giustificazione la posizione di gruppi di cavalieri che, a differenza di altri, sono saliti sull'Aventino in attesa degli sviluppi al momento ripetitivi delle condizioni di due anni precedenti. Intanto appare giusta la decisione dei due gremi di nominare i tre capi corsa e tra questi i sugon ponidori. Lo stesso ha fatto il direttivo della Proloco indicando i tre giovanissimi cavalieri e tra loro sugon ponidoreddo. Almeno da questo punto di vista la tradizione rispettata è a scendere in campo. Ci sarà ancora tempo, ma non troppo. Imminente chiusura della pesca al riccio di mare a partire dal prossimo 22 gennaio. Le associazioni della pesca e dei pescatori subacquei professionali hanno inviato una lettera al presidente della regione Cristian Solinas per manifestare la loro preoccupazione per il futuro settore pesca. Chiudere l'attività senza aver ancora chiarito le modalità di attuazione attraverso le quali gli operatori collaborano nelle azioni e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale contrariamente a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2021 numero 17 e senza avere ancora peraltro attivato tale misura, rischia di togliere l'unica fonte di sostentamento a oltre 200 operatori tra pescatori professionali autorizzati e addetti all'ausilio e a soccorso imbarcati, generando forte inquietudine in tutta la categoria. Le associazioni chiedono dunque alla giunta regionale la sospensione della chiusura della pesca al riccio di mare subordinando tale provvedimento alla definizione e alla reale e fattiva attivazione dei meccanismi di impiego degli operatori nella procedura di monitoraggio scientifico e recupero ambientale in modo tale da garantire certezze alla categoria interessata. Trovano sponda le proposte della Fondazione Montebrama di Cabras a divenuta una officina di idee da quella di coinvolgere Chiara Ferragni come testimonial per la promozione del luogo e di quel patrimonio, ora in collegamento, manco a dirlo con Anci Sardegna e il suo presidente a dare vita ad un'altra sovrastruttura destinata a redigere la mappa dei beni archeologici della Sardegna e questo paese per paese, mappa che sostanzialmente già esiste. Ma un ripasso a tutto tondo non guasta con la sponda del progetto, come si è detto, che sta nell'assessorato regionale del turismo, dove la Fondazione e il suo presidente trovano evidentemente porte sempre aperte, dove entrano proposte che comprendono anche i viaggi intercontinentali per la promozione dei giganti di Montebrama. E c'è anche dell'altro che in maniera copiosa passa sotto i punti della laguna di Cabras attraverso lo stanziamento di 12 milioni di euro disposti dalla Giunta regionale per interventi di valorizzazione del vasto patrimonio archeologico di Cabras, da Montebrama e la sua statuaria, alla città di Tarros, al villaggio di San Salvatore e altro. Ora l'obiettivo è definire un protocollo operativo tra assessorato al turismo e fondazione che ne diventa un braccio operativo nonché lanci per dare via a corsi di formazione e selezione del personale archeologico e i guide per poi paese per paese dare il via alla mappatura dei giacimenti. Non si parla di soprintendenze che in un senso o nell'altro ci metteranno di loro. Una delle piazze più importanti del comune di Bauladu ha assunto una nuova veste. Con le economie derivanti dall'intervento di riqualificazione realizzato nel 2019 dell'importo complessivo di 37.000 euro si è provveduto al posizionamento di un pannello in acciaio a corte dedicato a Giovanni Maria Angioi, retroilluminato e con un testo in tre lingue, sardo, italiano e inglese, che richiama emoti rivoluzionari sardi che coinvolsero anche la comunità locale e i cittadini bauladesi Giorgio Bina, Michele Azza e Luigi. L'angolo della piazza nella quale si presenta il pannello è stato inoltre rifinito con una zoccolatura in basalto scuro. La rinnovata piazza dedicata a Giovanni Maria Angioi, hanno fatto sapere dal comune di Bauladu, esalta, tutela e valorizza la bellezza della chiesa parrocchiale e del centro storico del paese, conserva la coerenza delle forme e dei materiali del territorio, richiama la storia e allo stesso tempo si proietta nella contemporaneità. Finalmente i residenti e i visitatori possono godere della principale piazza della comunità completamente ammodernata. Anche Masullas, piccolo paese della provincia d'Oristano, si candida a Borgo più bello d'Italia. Venerdì 21 gennaio si terrà presso l'Aula Consigliare del Comune un incontro pubblico di confronto con i cittadini, le imprese e le associazioni locali organizzate dalla giunta comunale, guidata dal sindaco Egnovacca. Crediamo che la coprogettazione e il coinvolgimento della popolazione sia la base per la partecipazione ad un simile progetto, ha affermato Egnovacca. Ben sappiamo quanto la nostra isola abbondi di borghi storici a rischio abbandono abbandonati, piccole realtà gioiello che abbiamo il dovere di valorizzare e riorganizzare sia per la memoria storica che per lo sviluppo economico e sociale della comunità. La regione Sardegna, attraverso l'assessorato della pubblica istruzione, ha pubblicato l'avviso rivolto ai comuni sardi per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi abbandonati e a rischio abbandono, finanziato nell'ambito dei fondi del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza. Insieme all'obiettivo di tutela del patrimonio culturale, l'interesse è rivolto anche alle esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Sono 685 casi accertati oggi in Sardegna. Sono stati processati in totale, fra molecolari antigenici, 81.508 tamponi. Nel numero totale dei tamponi processati sono ricompresi 53.614 test effettuati nei giorni scorsi e finora non conteggiati. I pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva sono 27, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 235, 3 in meno di ieri. Si registrano 7 decessi. A Oristano sono stati accertati 45 nuovi casi di positività e 51 guarigioni. Mercoledì 26 gennaio, a partire dalle ore 14.30, presso il centro sociale ex cantina sito in via Segni a Bonarcado, verranno effettuate le vaccinazioni. Dopo la sommistazione del siero, le persone dovranno trattenersi in locco per almeno 15 minuti di osservazione. I militari della Guardia Costera di Bosa, guidate dal tenente di Vascello Fabrizio Frascella, durante la programmata attività di monitoraggio sulla filiera della pesca, hanno posto sotto sequestro oltre 10 cli di prodotto itico, messo in vendita da un commerciante ambulante senza alcun tipo di autorizzazione o documento di tracciabilità che ne attestasse l'origine. A seguito di intervento di un veterinario dell'Aseo di Oristano, il prodotto è stato dichiarato non idoneo al consumo umano, pertanto si è proceduto alla sua distruzione. IMS rende operativa l'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo, denominata ARAS, con la pubblicazione della Circolare e l'apertura della procedura per fare domanda tramite il sito dell'Istituto. La nuova tutela, realizzata a sospinta del Ministero della Cultura, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è rivolta ai lavoratori autonomi del settore spettacolo, specificamente identificati per la disoccupazione involontaria prevista per gli eventi di cessazione involontaria decorre dal 1 gennaio, introdotta dal Decreto Sostegni BIS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS